Buongiorno, buon martedì 6 giugno. Ben trovati a mattino 6, il quotidiano appuntamento con la nostra rassegna stampa che inizia subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Andiamo a vedere l'apertura del centro nell'edizione di Pescara. Tra gli sportivi dilaga il doping, inchiesta del giornale sui farmaci vietati tra ricette false web e gravi rischi per la salute. Poi a centropagina, domenica tutti a Pescara, Samsara Beach Party con il centro e qui la festa. Poi nelle cronache, sitine dei senegalesi disperati delle bancarelle, ridateci il nostro lavoro. Il fisco, case rurali verso la stangata per 45 mila abruzzesi. Nel taglio basso, Farindola, i parenti delle vittime chiedono rispetto. Mai più selfie a Rigopiano. Scusate, l'ex sindaco pronto a denunciare i turisti del dolore. Ancora il calcio a 5, stangata sulle Pescara dopo la rissa in gara 1. Andiamo nel taglio alto, andiamo a vedere anche i richiami dal nazionale. La Cassazione, scarcerate Riina, è malato e scoppia la polemica. E poi la legge elettorale, ridotti collegi in Abruzzo, 5 alla Camera e 2 al Senato. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro. La prima di Chieti, Lanciano Vasto. Da 8 anni la galleria è al buio. La provincia di Chieti sistema la superstrada delle Tricalle, ma il progetto delle luci non c'è. Nelle cronache, da Chieti al Marrucino, 900 coristi, festa e folclore in città. E poi il fisco ancora con le case rurali. Nel taglio basso, San Salvo, torna l'acqua, saltano i tombini. La sindaca, atto intimidatorio. La Sasi, nessun complotto. Ancora dalla parte sud dell'Abruzzo, da Lanciano, arriva Sgarbi. Grandi nomi per rilanciare la città. Continuiamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere adesso l'apertura di Teramo. Vie e parchi sempre più sporchi. Spazzatura ovunque a Teramo. Inciviltà dei cittadini. Inefficienze della TEM sotto accusa. E poi, nelle cronache, andiamo a vedere oggi la seduta decisiva. Brucchi taglia gli assessori, ma il consiglio è a rischio. Nel taglio basso, Giulianova dopo l'inchiesta, Mastro Mauro a zera la giunta. Ritirate le dereghe e via le consultazioni con i partiti. E per il calcio, il Teramo e San Nicolò dicono addio all'accordo. Andiamo a vedere anche la prima di L'Aquila-Vezzano sul Mona, sempre sul quotidiano Il Centro. Progetto case Bertolaso contro Cialente. Il titolo di apertura, attacco deciso. I danni agli alloggi sono tutta colpa del sindaco, così l'ex capo della protezione civile. Nelle cronache, l'Aquila, sicurezza al rischio, Movida finita in rissa, nei guai un minorenne. Nel taglio basso, ospedale di Avezzano, sosta selvaggia e protesta. Parcheggi troppo lontani, la rabbia di pazienti e visitatori. Ancora da sul Mona, ciclista travolto, si indaga sulle telefonate dell'investitrice. Lasciamo il quotidiano Il Centro, adesso cambiamo testata, ci spostiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo. Tensione sul mercato etnico. La comunità senegalese in comune a Pescara, ma il sindaco Alessandrini prende tempo. Pesano gli scontri di via Ariosto e l'altolà del prefetto alle derive illegali dell'accoglienza. E da Montesilvano, via Laghetto, gli stranieri in spiaggia. Andiamo a centro pagina. La cronaca rasoiata all'occhio, il ragazzo ferito sorpreso alle spalle, l'aquila, il giovane ancora ricoverato. Difendevo la mia ex, colpo a tradimento. E poi l'ospedale di Chieti, malati parcheggiati in barella, allarme per il sovraffollamento in corsia. Proteste all'ospedale di Chieti per la mancanza di posti letto che ha costretto il personale sanitario di alcuni reparti a parcheggiare i pazienti in barella. Nei corridoi di spalla, De Cecco, la seconda laurea del Cavaliere, ottenuta a Napoli come normale studente, servirà al gruppo. Nel taglio basso il riscatto detenuti lavoro a Rigopiano. Si parte anche con i detenuti, quelli del carcere di Pescara, protagonisti nel pittoresco centrovestino, ferito gravemente dal terremoto e dalle nevicati che hanno provocato la tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga che il 18 gennaio ha ucciso 29 persone. Questa mattina in Comune sarà presentato un progetto voluto fortemente dal sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, che consentirà il ripristino di alcuni percorsi naturalistici nell'area del Vitello d'Oro e sono proprio i detenuti del carcere di San Donato a lavorare per questo progetto. Nel taglio alto Chieti, Romandini, trasferimento e caso Bussi, nessun legame. Poi Giulianova, notte in auto, la madre cacciata da casa perché amava un rom. Ancora calcio a 5, Pescara che è stangata dopo i disordini con la Luparenze. Campo squalificato fino a dicembre, inibito il presidente Iannascoli, Colini e altri giocatori non potranno prendere parte al return match. Questo per quanto riguarda il messaggero, adesso andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Mastromauro e Brucchi azzerano il titolo di apertura, il sindaco di Giulianova e quello di Teramo, accomunati dalla crisi, mettono mano alle giunte. E poi a centropagina la fotonotizia, strage da lupi, Teramo ha saltato un allevamento alle porte della città. E poi nel taglio alto, sospeso il funzionario Asle finito nell'inchiesta, parliamo dell'inchiesta Castrum, gli arrestati intanto s'appellano al riesame. La politica, provocazione in provincia, Verna lascia Renzo e fonda il gruppo del Partito Democratico. Di spalla, Roseto degli Abruzzi, selfie con il fondoschiena a bufera sul segretario PD. A Roseto degli Abruzzi, viabilità così via Manzoni non funziona. Sotto la fotonotizia, una news di sport clamoroso, ripeto, sorpassa Federico, Teramo ad un passo dalla firma per il nuovo DS. Nel taglio basso, l'intervista a Roberto Vecchioni ad altri, la felicità va cercata ad ogni costo. Lasciamo i quotidiani regionali e adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale con le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Questa è la prima del Corriere della Sera. Ipotesi, scarcerazione per Riina malato, accuse e proteste. La Cassazione ha diritto a una morte dignitosa. E poi, a centropagina, la crisi del Golfo che isola il Qatar, il conflitto se i paesi arabi dicono che il Qatar ha legami con i terroristi. E poi, il Regno Unito, l'attentato pesa sul voto, duro scontro fra May e Corbyn, identificati killer, sondaggi conservatori giù. Continuiamo sulla Repubblica. Voto a settembre, pressing dei partiti. Sì, scusate, in commissione alla legge elettorale. Il 62% dei parlamentari verrà dai listini del proporzionale. Oggi il testo alla Camera. Berlusconi chiede di inserire nel patto la nomina dei nuovi vertici della RAI. Scatta l'inchiesta, la sindaca lascia la delega alla sicurezza. Torino, errori e buchi nel mirino il comune. A Pendino, seguita la Prassi per quanto riguarda i fatti di piazza San Carlo. Durante la partita fra Juventus e Real Madrid, la finale di Champions. Nel taglio alto, frontiere chiuse, il golfo, isola, il Qatar, finanzia il terrorismo. Mossa di Egitto e rabbia saudita, diplomatici espulsi nel mirino. Anche l'Iran. Di spalla troviamo la notizia che riguarda Totò Riina. Ipotesi scarcerazione in rivolta ai parenti delle vittime. La Cassazione è malato, ha diritto a una morte dignitosa. Così i supremi giudici. E poi andiamo sulla stampa. Torino, il piano d'emergenza fantasma. A Pendino si difende, rispettate le regole. Minniti, il ministro degli interni, in quella piazza qualcosa non ha funzionato. Non considerate le indicazioni del capo della polizia dopo Manchester. Niente centro di coordinamento, steward e punti di raccolta per i feriti. A centro pagina, senza corde, sul Monte della Paura, l'americano Arnold è salito sul pericoloso il Capitan di 900 metri la montagna nel parco di Yosemite in California. E poi accuse anche da Egitto, Yemen, Emirati e Bahrain. Golfo si rompe il patto, il Qatar aiuta il terrore. I sauditi chiudono la frontiera. Andiamo sul fatto quotidiano ora. Morire con dignità. La Cassazione Rine è malato e un suo diritto. Ipotesi di scarcerazione e vittime in rivolta. E qui vedete le foto delle stragi di Capaci di Via D'Amelio e di Via dei Georgofili. Giustizia, il CSM Gentiloni bloccate la norma che svela le indagini. E poi due mesi dopo, Igor in fuga, rabbia nelle urne contro il flop della caccia. A centro pagina, il costituzionalista, il professor Villone, spiega perché ci vuole il disgiunto alla tedesca. La legge migliora, ma senza il doppio voto, è illegittima. Continuiamo sempre sul fatto quotidiano. Andiamo a vedere questa notizia che riguarda il Regno Unito. Fra stragi e seggi, Corbyn a Zanna Lamei tagliata la sicurezza. Andiamo ancora avanti. Il messaggero Rinaco, scontro sulla scarcerazione, sentenza della Cassazione, il super boss emmalato terminale ha diritto a una morte dignitosa. Polemiche sull'ipotesi di sospensione della condanna protestano le famiglie delle vittime di mafia. E poi a centro pagina, un killer del London Bridge apparve in tv inneggiando all'Isis. Londra, il capo jihadista era schedato. Qatar, intanto isolato, finanzia il terrorismo. L'approfondimento proprio sugli Emirati. Banche, energia, immobili e moda. L'impero europeo dell'emiro di Doha. Poi, sorelle Arse vive, già libero in Rom. Nessuna prova, esce dal carcere in nomale accusato del rogo. Procura di Roma, approveremo la colpevolezza. Continuiamo con il quotidiano Il Tempo. Onorevoli affari di famiglia, più soldi ai parenti degli ex. Arriva il trucco sulla reversibilità, così i congiunti salvano il 20%. Le regioni non sono da meno, oggi scattano i vitalizi in Sicilia. Questo è il titolo di apertura del quotidiano Il Tempo. E poi a centro pagina, quel rogo del camper e della cinese morta. E quello che travolse dieci persone a boccea. E la giustizia salva i due Rom. La Cassazione sta male, va scarcerato. Serina può morire a casa sua. E poi, altra notizia da Lazio. A Paltopoli, a Rieti, spunta il PD. 27 indagati per legare Aslan e il capologo Sabino. Ombre sui democratici. Torino, scagionato l'uomo con lo zaino. Basta una foto e sei terrorista per una notte. Il ragazzo in questione è stato fermato, interrogato a lungo e poi rilasciato. Libero, il colmo dei colmi. Appendino sindaco, peggiore della Raggi. Il primo cittadino di Torino riesce nell'impresa di mettere d'accordo Lega e PD. Che ne chiedono le dimissioni. Ci uniamo al coro, sperando che dia l'esempio alla sua collega romana. Ecco tutti gli errori della sventurata ordinanza dell'amministratrice del Movimento 5 Stelle. Dunque questo l'attacco di Feltri su Libero al sindaco di Torino. Andiamo sul giornale. Caos in piazza a Torino, scappa pure il sindaco. Appendino, questore prefetto, scarica Barile sulla strage sfiorata. Islam radicale e il decalogo per la tolleranza zero. Dunque si torna anche sul giornale sui fatti di Torino. Schiaffo alle vittime di mafia con la foto di Totò Riina. La sentenza shock, scarcelatelo, sta morendo. E poi affari e terrorismo, finanzia l'Isis, Qatar isolato. Ma l'Italia gli ha aperto le porte. Andiamo sulla verità. Il quotidiano fondato e diretto da Belpietro. Tutti i rapporti di Renzi e del PD con il paese che finanzia l'Isis. I paesi arabi isolano il Qatar che è ritenuto uno stato canaglia. Italia spiazzata dal bando agli emiri con i quali negli ultimi due anni sono stati intrecciati affari miliardari. Il rottamatore che aveva un ufficio in un hotel di loro proprietà voleva coinvolgerli anche in Alitalia e MPS. Poi Islam Radicale si è infiltrato in comune a Milano con questa donna, una donna catariota che fa parte del Partito Democratico. L'invasione dei dentisti senza laurea. Calenda inserisce nel decreto concorrenza la norma che fa saltare i vincoli. La Lorenzin tace. L'attentato a London Bridge precipita sul voto di giovedì voluto dal Premier Theresa May. Il leader laburista Corbyn chiede le sue dimissioni. Troppi tagli alla sicurezza contro la Premier Moltitoris. Resi noti i nomi di due dei tre terroristi dell'attacco che l'Isis ha rivendicato. Curam, Butte e Rashid questi i nomi. Andiamo sul mattino di Napoli. Rina malato scoppia il caso. La Cassazione ha diritto a una morte dignitosa. Bindi in cella ha le cure. Questo è lo scontro appunto sulla sentenza. La Suprema Corte invita a considerare pene alternative la rabbia dei familiari delle vittime di mafia per questa apertura dei giudici. Poi Violante. Lo Stato non può utilizzare la vendetta. Questa è la posizione di Violante. Poi gli stati generali a Matera. Gentiloni. Investire al sud ora conviene. Mezzogiorno la sinistra ha sbagliato. A centro pagina il plebiscito blindato. La lezione di Napoli. Il caso dopo il caos di Torino. Controlli ferrei per i 15 mila di Battiato. Ancora a Londra la beffa del killer in tv con la bandiera dell'Isis. Uno degli attentatori ripreso in un documentario. Andiamo sul secolo XIX. Mai più eventi non sicuri. Giro di vite diminuiti dopo il caso Torino e la psicosi terrorismo. Circolare del Viminale. A Genova 100 manifestazioni all'esame della prefettura. Ovviamente il secolo essendo un quotidiano ligure genovese pone attenzione appunto su quanto accade nel capoluogo. Poi aggiudicata l'ILVA. Gli operai vogliamo garanzie per quanto riguarda l'acciaieria pugliese. Il ministro firma avanti con Arcelor Marcegaglia. E poi, addio capilista blindati, calano i seggi garantiti. Renzi preoccupato per le critiche di Prodi. Legge elettorale in aura. Ora è corsa contro il tempo per approvare appunto la nuova legge con cui si andrà alle elezioni. Bisognerà capire se in autunno oppure nella primavera del prossimo anno. Avvenire. Il risico del terrore. Qatar isolato dai paesi del Golfo. Dicono è complice. A Londra giadisti improvvisati. Voto nella paura. Questo è il titolo di apertura di avvenire. Poi a Torino un disastro senza cause né colpevoli. Andiamo sul dubbio ora. Scarceraterina è un uomo e un uomo. Clamorosa sentenza della Cassazione. Malato è incompatibile con il carcere. Così la sentenza sul capo dei capi della mafia di Corleone. Nel taglio basso il procuratore Spataro non ci sono indiziati. Caos a Torino e polemica tra Appendino e Fassino. Quindi tra l'attuale sindaco e l'ex sindaco di Torino. La Gazzetta delle Mezzogiorno. Il quotidiano pugliese apre sulla legge elettorale che va avanti. Non passano le pluri candidature. Quote di genere nelle liste. Renzi, ma che inciuci con Berlusconi. Prodi va all'attacco. Oggi il testo approda in aula a Montecitorio. Ma è polemica sui collegi. Regge il patto a quattro. E poi Gentiloni. È il momento di investire subito al sud. Il premier e il ministro De Vincenti ieri a Matera. Intanto per l'ILVA firmato da Calende il decreto che assegna il siderurgico alla cordata. Mittal Marcegaglia. A centropagina a Londra un killer. Nel documentario la strage pesa sul voto di domenica. Identificati tre attentatori uccisi. Nel taglio alto. Andiamo a vedere quest'altra notizia di cronaca. Sequestro da 50 milioni al principe dei sequestri. Andrea nel mirino Giuseppe Stallone. Fu condannato a sei anni per il rapimento di un imprenditore bresciano. Continuiamo con il Gazzettino e il quotidiano del nord-est. Il caso Riina bufera sulla scarcerazione. Il capo di Cosa Nostra, malato terminale, rita dalla chiesa, insegno a mio nipote la fiducia nella giustizia. Forse sbaglio la Cassazione e ha diritto a una morte dignitosa. Le famiglie delle vittime sarebbe un'altra ferita. Nel taglio alto. Il Qatar aiuta i terroristi. Stop di sei paesi. Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrain, Yemen e Maldive. Continuiamo con i quotidiani nazionali. Ma adesso andiamo a vedere i quotidiani economico-finanziari. Iniziamo dal sole 24 ore. L'ILVA venduta a AM Investco. Entro un anno il definitivo passaggio di proprietà. Cessione da 1,8 miliardi. Filmato il decreto che assegna il gruppo alla cordata Arsero-Mittal e Marcegaglia con intesa San Paolo. Poi Vivendi punta su calcio e Mediaset. Il CEO di Puy Fontaine guarda al Biscione. Ci piacerebbe tornare a discutere. I francesi aprono a Milano per investire in sport e cinema. Poi Borsa in calo. Milano meno 1%. Egitto, Emirati, Arabia e Bahrain contro il Qatar che aiuta, dicono, il terrorismo. Intanto si impenna il prezzo del petrolio ma poi frena. La legge elettorale, primosi in commissione, nominati due parlamentari su tre, Renzi voto al PD per evitare le larghe intese. Nel taglio alto, scadenza il 12 giugno, nel focus tradizionale, liquidazioni IVA alla prima spedizione. La guida come gestire l'invio dei dati. Continuiamo su Milano Finanza. Banche, l'Inps sblocca gli esuberi. Il documento definirà quali istituti potranno impiegare i 648 milioni messi a disposizione dallo Stato. Nella legge di bilancio si va verso un'interpretazione allargata che consentirebbe a un ampio numero di gruppi del credito di accedere alle risorse. Ristrutturazioni, oggi l'ente guidato da Boeri dovrebbe pronunciarsi sull'utilizzo dei fondi pubblici per le uscite. Poi Spettro Belin anche sul Banco Popular. L'istituto spagnolo che ieri ha ceduto il 18% alla Borsa di Madrid ha dimensioni simili al Monte dei Paschi. I potenziali acquirenti si defilano, aperta l'ipotesi risoluzione. A Lisbona trema il nuovo banco. Poi Terrorismo, l'Arabia bandisce il Qatar che fine faranno i 360 miliardi di investimenti delle mire in Europa, Italia compresa. E' questo che si chiede Milano finanza. Poi Italia Oggi, avvisi bonari per gli autonomi. In arrivo 100.000 lettere delle entrate. Per la prima volta coinvolti i professionisti e partite IVA. Le anomalie potranno essere giustificate o sanate con il provvedimento di ravvedimento. Vaccini gratis ma sanzioni pesanti. Oggi in gazzetta ufficiale il decreto Lorenzine con le nuove regole per la prevenzione delle malattie infettive. Continuiamo adesso con la lettura dei quotidiani nazionali ma apriamo quelli sportivi. E dunque andiamo a vedere la gazzetta dello sport. Under 20 di gloria. C'è un'Italia da amare in semifinale mondiale. Azzurro Speranza in Corea del Sud. In 10 domato anche lo Zambia. Giovedì affronteremo l'Inghilterra. Tira aria nuova con la conferma di un rinascimento delle giovanili. E poi l'intervista. Sacchi che bravo il mio Evani sa osare. Orsolini, Vido, Faviglia e gli altri ragazzi che ci fanno sognare nella fotografia. Nel taglio alto scatto Milan. Candaun Gigio risposta in 8 giorni. Blitz in Germania preso Rodriguez. Il rinnovo di Donnarumma prima la decisione e poi andrà all'Europeo Under 21. Fatta per il difensore svizzero del Wolfsburg risale Obama e Young. Ancora un ok da lontano. Zhang convoca Spalletti. La nuova Inter nasce in Cina. E poi Allegri e Juve incontro per il rinnovo anti-PESG. Nel taglio basso. Basket la svolta per la panchina dell'Olimpia. Milano pianigiani di rilancio. L'ex CT deve liberarsi dal Gerusalemme. Pronto un triennale. Re Savellino finale mai vista. Venezia da sabato sfiderà Trento per lo Scudetto. Andiamo sul Corriere dello Sport. Nasce l'Inter di Spalletti. Il tecnico vola in Cina. La nuova stagione inizia oggi. Viaggio Lampo di 48 ore per prendere contatto col vertice del Suning. Sabatini accelera sul mercato. Nel mirino con Bernardeschi. C'è il rabbio talento del PSG. Nel taglio alto. Meraviglia Italia. L'Under 20 è in semifinale al Mondiale. Capolavoro degli azzurri di Evani. In 10 battono lo Zambia 3 a 2 ai supplementari. E ancora le mosse della Juve. Fabinho, Douglas Costa e Keita. Pronto un budget di 128 milioni. Tripletta moto al Mugello. Agostini. Ecco la nuova grande leva dei piloti. E poi il Golf. Paratore dopo l'impresa in Svezia. Che gioia. Il trionfo è dedicato a Totti. Abbiamo ancora un minuto e mezzo. Allora andiamo a vedere rapidamente i principali portali online regionali. Iniziamo da primadanoi.it. L'apertura. Aeroporto d'Abruzzo declassato. Attendiamo il refresh del sito. Quindi aeroporto d'Abruzzo declassato dall'Enav. Perché a basso traffico. Dipendenti costretti a scegliere nuovi contratti e trasferimenti. Andiamo a vedere anche Abruzzo Web. Ospedale maggiore solo Chieti Pescara. La delibera uccide la sanità aquilana. È il titolo di apertura. Andiamo anche su ABR News 24. Che apre invece con il calcio a 5. Il campo del Pescara squalificato fino a fine anno. Bastonata sul giudice sportivo. E poi salta il matrimonio tra Teramo Calcio e San Nicolò. Ci siamo parlati ma restiamo autonomi. Andiamo a vedere anche City Rumors. Giulianova Mastromauro ritira le deleghe dei suoi assessori. Chiesta la fiducia alla coalizione. Poi ricostruzione l'aquila. Spunta un tesoro nascosto scoperto in un giardino archeologico. Ancora albadriatica ladro seriale. Valle dei domiciliari. Finisce nei guai per un furto in abitazione. E poi Pescara. Litea la festa dei Cogli. Anziano in ospedale. Cani salvati in Abruzzo. Diventano damigelle e paggetti ad un matrimonio. Questo per quanto riguarda anche i quotidiani online. Adesso noi ci fermiamo per il break pubblicitario. Ma prima andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6. Poi torneremo con la seconda parte della nostra rassegna. Tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Andiamo ad aprire le pagine interne dei giornali. Partiamo dalla pagina Abruzzo del quotidiano Il Centro Economia e Politica. Cottarelli. Il macigno del debito si può ridurre. L'ex commissario straordinario alla Spending Review presenta il suo ultimo libro. Serve un po' di austerità a raggiungere il pareggio di bilancio e mantenerlo. Non ci sono scorciatoie possibili. Inutile tornare alla lira o pretendere di non pagare. Importante che la spesa reale non cresca e che tutti i risparmi siano impiegati a ripianare i conti. E poi Pescara manifestazione di articolo 1. Bersani, Bacchetta e il PD. Irresponsabile votare a settembre. Le dichiarazioni 2016. Abruzzo, reddito giù. Pescara, maglia nera. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina Abruzzo del messaggero. Bersani, platea allargata. C'è anche Di Matteo. Possibile la candidatura all'assessore regionale. Sarebbe il quarto big di articolo 1. In corsa le politiche con Melilla, Mazzocca e Sclocco. E poi Camere di Commercio Vertice Adriatico. Il forum delle Camere di Commercio Adriatico Ioni che sarà ospitato appunto dalla Camera di Commercio di Pescara e Chieti. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Il forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico si terrà quest'anno a Pescara. Presidente, come mai questa scelta? Un omaggio al territorio, un omaggio a Pescara e a Chieti. Una sensibilità forte verso zone che purtroppo sono state colpite duramente dal terremoto. Ed è la solidarietà dell'Adriatico e dell'Ioni di tutti i paesi a una popolazione che merita grande incoraggiamento. Ogni anno il forum è composto da 45 Camere di Commercio delle due sponde. Rappresenta un milione di aziende per cui i numeri sono molto importanti. Ogni anno c'è un'assemblea unitaria. Quest'anno è stato deciso di farla a Pescara e a Chieti perché, come ho detto, è importante essere vicini, essere solidali, ma essere tutti consapevoli che insieme ce la possiamo fare a riprenderci e soprattutto sfruttare il concetto di superare il campanile per essere dentro il concetto della macroregione Adriatico-Ionica. L'Europa in questa regione sposta somme importanti per progetti europei ambiziosi e noi contiamo di sfruttare questa opportunità. Questo incontro che per noi rappresenta su temi di assolutamente primari un momento di confronto appunto con i vari paesi che si affacciano sull'Adriatico e sullo Ionio e in prospettiva dobbiamo tirare fuori una progettualità che porti il nostro Abruzzo al centro dell'attenzione e Dio sa quanto ce ne sia bisogno. Presidente Di Vincenzo, quanto è importante questo evento per le due Camere di Commercio? È un evento simbolico perché le due Camere di Commercio organizzano insieme a tre o quattro mesi insomma oramai al ridosso stretto della fusione concreta delle due Camere di Commercio e poi perché uno dei temi centrali che abbiamo posto al centro del dibattito è quello del turismo slow, quello del turismo in bicicletta che vede l'Abruzzo in una posizione estremamente importante perché sta realizzando la pista ciclabile e la corsa dei Trabocchi ma la regione poi sta investendo tantissimo su tutta la ciclabilità che diventerà uno dei prodotti turistici di punta l'aver messo al centro di tutto il dialogo dell'Adriatico Ionio questo tema significa avere noi centralità poi in futuro nella prospettiva di costruzione di una rete interadriatica di pista ciclabile. Dalla pagina Abruzzo del messaggero redditi a picco a Teramo, più povera anche Pescara peggiora in due delle quattro province abruzzesi appunto Pescara e Teramo la ricchezza dei cittadini alle prese con una crisi epocale che rispetto ai tempi di vacche e grasse fa perdere in Italia il 10% di PIL tradotto in cifre, il vulnus corrisponde a 278 euro a persona. Continuiamo con la lettura delle pagine regionali dei nostri quotidiani torniamo sul centro Capitani d'industria De Cecco prende la laurea in giurisprudenza a Napoli l'industriale abruzzese discute una tesi sulla storia dell'azienda di famiglia una multinazionale tascabile che ha saputo conservare le radici a fara San Martino e poi la pesca Fossa di Pomo firmato il decreto ministeriale sulle misure per la pesca nella Fossa di Pomo l'avvalamento situato di fronte alla città di Pescara al confine tra le acque internazionali e quelle croate un successo diplomatico nato in Abruzzo ha commentato l'assessore regionale Dino Pepe Andiamo avanti ancora con le pagine regionali adesso ci spostiamo sulla città per andare a vedere l'apertura della pagina Abruzzo Abruzzo e Molise unite dai carabinieri nella scuola allievi di Campobasso le celebrazioni per il 203esimo anniversario della fondazione dell'arma si rimarco non servono più carabinieri o poliziotti ma c'è bisogno di una comunità più responsabile dove ognuno faccia la sua parte da Montesilvano giro di vite contro la criminalità 5 arresti in pochi giorni nel taglio basso pioggia di finanziamenti per il recupero delle chiese abruzzesi nel masterplan definiti ieri soggetti attuatori dei progetti che vedranno un investimento totale superiore a 11 milioni di euro andiamo avanti ancora sui quotidiani regionali torniamo al quotidiano Il Centro apriamo la pagina di Pescara inchiesta doping, ricette false e web e corsa ai muscoli e l'apertura della pagina pescarese con questa inchiesta del Centro nel mondo vietato di steroidi e anabolizzanti fra gli amatori pronti a rischiare la salute pur di apparire in forma il medico dello sport dice attenti si rischiano guai al cuore e tumori i marchesani mette in guardia dall'uso dei farmaci vietati a pescare il fenomeno è rilevante troppi atleti fai da te e poi gli ultramanatoreti e poi ecco i podisti della mente il gruppo passologico reduce dalla leggendaria gara del passatore andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Pescara del quotidiano il messaggero cautela sul nuovo mercato etnico Alessandrini sulla legalità serve un impegno forte diritti e doveri sono due facce della stessa medaglia il punto sull'iter del progetto nel corso di un incontro tra sindaco comunità senegalese CGL e partiti di sinistra dieci mesi di distanza dallo sgombero delle bancarelle dell'area di risulta la soluzione alternativa è ancora lontana è sempre su questo argomento via Riosto lento ritorno alla normalità ma 20 immigrati dormono in spiaggia a Montesilvano le case liberate dalla forza pubblica restano presidiate dalla polizia impegno delle associazioni per l'accoglienza ma restiamo alla manifestazione di ieri sotto palazzo di città a pescare andiamo a vedere insieme il servizio a distanza di un anno dallo sgombero del mercatino etnico delle aree di risulta occorrono risposte certe con la conclusione del percorso avviato dall'amministrazione comunale per rendere operativa al più presto la soluzione trovata con il nuovo mercatino da riaprire sotto il tunnel della stazione questo è il senso del presidio di questa mattina sotto palazzo di città a Pescara da parte dei rappresentanti della CGL di rifondazione comunista e delle comunità degli immigrati bengalese e senegalese noi abbiamo un presidio pacifico giusto sono due cose che chiediamo uno non contro la giunta comunale di Pescara contro il consiglio comunale di Pescara per poter ridare le risposte che noi attendiamo già da tanto quali sono le persone adesso presenti sono due comunità senegalese e bangladesi per quanto riguarda tutti quanti sono lavoratori autonomi in cui bisogna la possibilità di poter svolgere la loro attività poi due per quanto riguarda la stazione Mercato che è già sgombrato vogliamo la risposta siccome la destra sta cercando di smettere questa situazione non la vogliamo tre vogliamo un tavolo permanente per poter dare le risposte a tutte le problematiche inerenti al lavoro autonomo quanti sono gli ambulanti che sono rimasti dall'anno scorso dopo la chiusura del mercato senza lavoro sono tanti sono 120 noi partecipiamo con una cosa di diritto per gli estrenieri per fare anche vedi qui è venuta tante gente che lavorava tanti anni più di 30 anni loro lavorava adesso ha perso la posta per loro problema di famiglia perciò di questo incontrerete il sindaco cosa chiedete al sindaco di Pescara noi chiederemo semplicemente al sindaco di Pescara quello che ci ha promesso un anno esattamente due settimane fa cioè di riaprire uno spazio di lavoro per i senegalesi che sono stati diciamo così separati dal loro luogo di lavoro dal loro fonte di vita questo ci ha portato a una situazione di limite noi diciamo al sindaco che bisogna riaprire velocemente questo mercato perché i tempi iniziali erano tre mesi adesso siamo a un anno tu prova ad immaginare semplicemente un padre di famiglia che rimane un anno senza risorse di vita vogliamo favorire politiche di integrazione vogliamo farlo attraverso naturalmente percorsi di piena legalità su questo fronte noi siamo ripeto al lavoro da tempo certamente la disponibilità a un confronto ampio c'è sempre stato e la ribadisco anche in questo momento in quanto credo che più che mai oggi su questa materia sia necessario il dialogo e non le palizzate intese come contrapposizioni talvolta anche un po' troppo ideologiche la soluzione resta quella del nuovo mercatino sotto il tunnel della stazione la soluzione su cui stiamo lavorando è quella così come individuata anche da una risoluzione del consiglio comunale nella cui direzione continuiamo a muoverci perché nell'ambito delle opzioni sul tavolo quella resta la migliore possibile e ancora su questo argomento andiamo a vedere la pagina del centro sicurezza e occupazione la protesta dei senegalesi adesso fateci lavorare abbiamo sentito gli ambulanti davanti al comune basta promesse vogliamo il mercato etnico e poi Alessandrini sia le bancarelle ma nella legalità il sindaco dà garanzia alla comunità straniera giovedì nuovo incontro per definire i tempi di realizzazione del progetto le spine della movida i residenti di via Battisti denunciano il comune nuova protesta contro i locali notturni intorno al mercato coperto di via Muzzi soldi spesi a vantaggio di pochi privati valutiamo un ricorso alla corte dei conti e poi ma non criminalizzate i titolari i tauci di confesercenti i nostri associati rispettano le regole e creano lavoro l'appello del PD al primo cittadino periferie degradate subito gli interventi di rigenerazione urbana proseguiamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere altre notizie strade dissestate e Iron Man sospiri l'evento è a rischio la manifestazione in programma il 18 giugno diventa un caso e arriva oggi in consiglio regionale il capogruppo di Forza Italia dopo Farindola i sindaci non sono più disposti ad accollarsi i rischi andiamo sulla pagina di Montesilvano il ghetto dei senegalesi sgombero di via Riosto atto razzista l'ex sindaco di Mattia accusa la sicurezza non c'entra c'è solo la volontà di politicanti di incassare voti xenofobi e poi polizie e carabinieri presenti H24 il quartiere resta presidiato abbiamo visto famiglie accampate in spiaggia notizie che abbiamo trovato anche sul messaggero dove adesso torniamo per andare a vedere un'altra notizia dall'area metropolitana i detenuti al lavoro per riaprire i sentieri di Rigopiano la montagna pescarese riparte dopo la tragedia di gennaio oggi la firma del patto tra comune parco e carcere di San Donato continuiamo con la lettura delle notizie dall'area metropolitana e torniamo sul centro successo bici sicura oltre 50 timbrature per prevenire i furti a Montesilvano inaugurato il primo il primo marking point mobile raggiunto da tanti amanti delle pedale anche fuori città le fototrappole sulla nazionale multata al semaforo paga e le contestano un'altra violazione poi il musical dei bimbi contro i bulli in scena gli alunni del delfico protagonisti autori guidati dal maestro Pavone proseguiamo sempre con il quotidiano il centro andiamo a vedere altre notizie dall'area metropolitana Francavilla furto di due auto alla concessionaria il colpo segnalato su facebook dai titolari del centralistimo punto vendita è stato denunciato ai carabinieri ancora da Francavilla spiagge più sicure grazie alla scuola cani di salvataggio ancora avanti sempre nell'area metropolitana basta selfie sui luoghi della tragedia l'ex sindaco di Farindola che sotto la valanga ha perso un fratello è pronto a denunciare i turisti del dolore andiamo a vedere le altre notizie dalle altre province e restando sempre al quotidiano il centro apriamo la pagina dell'Aquila progetto case a pezzi Bertolaso attacca Cialente un'opera da tutelare i danni sono colpa tua l'ex capo della protezione civile comune assente nella manutenzione quegli alloggi sono stati apprezzati dall'Europa e sono ancora utili e poi l'allarme sicurezza sale la protesta Movida finita in rissa ha scovato l'aggressore e un minorenne il ragazzino rischia l'incriminazione per lesioni gravissime ha sfregiato l'occhio del rivale in amore ora in ospedale continuiamo a vedere le notizie dall'Aquilano ma ci spostiamo sul sul messaggero l'apertura è dedicata alla notizia che abbiamo visto poco fa il colpo all'occhio ha sferrato a tradimento il ragazzo ha ciecato con un cutter in piazza Chiarino lo avevano allontanato poi mi ha preso alle spalle urlavano per il gran dolore mentre fuoriuscivano fiotti di sangue l'aggressore mai visto prima ma sono in grado di riconoscerlo il 21enne ferito per aver difeso l'ex fidanzata da un molestatore ancora ricoverato in ospedale biondi la regione prepara lo scippo della centrale del 118 il sindaco candidato del centrodestra mostra la delibera della giunta il coordinamento dei soccorsi trasferito tra Pescara e Chieti il DG dell'asle Tordera non è vero al contrario la struttura sarà potenziata e poi democratici e socialisti Bobo Craxi alza il tiro su Trifuogi e poi Benedetti Flirta con Pierluigi ancora nel taglio basso calata di Big per sostenere di Benedetto ieri Bersani e oggi il ministro Franceschini Cimoroni linee bus il servizio va ripensato la pagina di Avezzano sul Mona Santa Croce a rischio delocalizzazione la nuova ditta che dovrebbe rilevare l'acqua minerale non ancora chiesto terreni per l'impianto di canistro lo stabilimento potrebbe sorgere nel territorio di Civitella l'affidamento all'azienda dei Pessina resta provvisorio intanto il sindaco di Paolo risponde all'ex patron Colella continuiamo sempre sul messaggero apriamo la pagina di Chieti boom di Barrelle nei corridoi dell'ospedale dignità dei malati calpestata viaggio in geriatria e clinica medica parcheggiati anche i pazienti gravi servirebbe almeno un altro reparto per risolvere il sovraffollamento andiamo avanti con la nostra rassegna vediamo se riusciamo a continuare con la lettura del quotidiano il messaggero Lanciano Vastortona botte all'anziana madre arrestato in manette un 51enne frentano che ha sfondato la porta e ha incastrato la donna tra la rete e il telaio lui solo spintoni era sconfortato per la sua malattia ieri l'uomo ha patteggiato due anni ed è tornato in libertà adesso introduciamo le notizie invece dal terramano andando a vedere un servizio che riguarda il comune di Giulianova con il sindaco Francesco Mastromauro che ha azzerato le deleghe di giunta e avviato la verifica con i partiti di maggioranza per vedere se c'è la possibilità di proseguire con il suo secondo mandato vediamo il servizio delega gli assessori azzerati al comune di Giulianova dove il sindaco Francesco Mastromauro si appresta a dare il via al terzo rimpasto dopo quello del 2011 nel primo mandato e quello del novembre 2015 nella seconda consigliatura il sindaco assicura tempi brevi con i gruppi di maggioranza già convocati per le giornate di mercoledì e giovedì il primo cittadino vuole mettere in piedi un percorso di verifica della maggioranza della maggioranza di mercoledì e giovedì e giovedì la verifica della maggioranza di intenzioni di mercoledì e giovedì e giovedì ho visto che le intenzioni del gruppo di civicamente che qualche giorno fa ha votato contro il documento di bilancio redatto in prima persona proprio dal sindaco che ha la delega ad interim poi c'è la questione Giulianova Patrimonio senza amministratore unico a seguito delle dimissioni di Filippo di Giambattista finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Castrum tutto finirà quindi sul tavolo di confronto con le forze politiche in un momento delicato per Giulianova sconvolta da questa inchiesta giudiziaria sulle presunte mazzette negli appalti una città offesa dice Mastro Mauro pronta a dichiararsi parte l'ESA indubbiamente se ci sono delle difficoltà voglio capire di quale natura sono se è programmatico ci confronteremo il programma sta lì e quindi voglio capire se c'è la volontà di continuare fino alla fine nell'amministrazione della cosa pubblica che lo ricordo ha già consumato i due terzi della seconda avventura proprio in questi giorni e che si appresta a impegnare l'ultimo terzo Influisce su questa verifica l'inchiesta in corso l'operazione Castrum Questa verifica l'avevo già programmata lo sapete tutti prima dell'operazione Castrum l'operazione Castrum è una vicenda giudiziaria nei confronti della magistratura c'è massimo rispetto e attenzione deve fare il suo corso le accuse formulate sono pesantissime offendono e feriscono la città e l'amministrazione comunale che è parte l'esa in questa vicenda sicuramente c'è solo un aspetto rilanciare ancora di più l'azione amministratore fare chiarezza trasparenza in questo ambito il 30 maggio scorso ho chiesto al dirigente all'assessore e al presidente della commissione urbanistica di verificare l'iter amministrativo di farlo di nuovo di tutte le vicende che sono al vaglio della magistratura allora proseguiamo con le notizie dal terramano andiamo sulla città mazzette a Giulianova ha sospeso il funzionario infedele della ASL intanto tutti gli arrestati hanno presentato ricorso al tribunale della libertà per ottenere la revoca delle misure il sequestro l'avvocato dei fratelli Scarafoni ha chiesto la revoca dei sigilli su 125 mila euro di incassi della ASL proseguiamo la crisi in comune a Teramo l'obiettivo è tirarla ancora per le lunghe oggi la riunione di maggioranza il probabile azzeramento è l'appuntamento col consiglio che dovrebbe saltare la vera partita si sta giocando a Roma con la legge elettorale una volta definito il sistema la politica cittadina si riorganizzerà per il dopo Brucchi consiglio in forse sulla seduta pesa l'incognita dell'apertura dei lavori nel caso mancasse di nuovo il numero legale facciamo un salto sul messaggero andiamo a vedere l'apertura della pagina di Teramo crisi assessori convocati con un sms dal sindaco oggi alle 18 il consiglio comunale Brucchi rischia di non avere i numeri i civici e Micheli non garantiremo noi di sicuro il numero legale torniamo sulla città andiamo a vedere andiamo a vedere le altre notizie sempre dal Teramano stragi di pecore alle porte del capoluogo i lupi assaltano l'allevamento di una nota azienda agricola alla specola titolari disperati per i rimborsi ancora entro luglio il progetto definitivo dell'IZS il caporale ha approvato un piano triennale di investimenti dai 6,8 milioni di euro sbloccate le somme in bilancio andiamo a vedere altre notizie ma questa volta dalla provincia la crisi politica in provincia Verna fonda il gruppo dei PD di inviamilli il consigliere esce dalla maggioranza in polemico col presidente Renzo Di Sabatino ma la vicepresidenza per la vicepresidenza di Nunez la motivazione il partito ha dato una chiara indicazione sulla rimozione di Nunez ma il presidente non rispetta l'invito di Minosse andiamo adesso allo sport dunque torniamo sul quotidiano il centro per andare a vedere insieme le notizie che riguardano lo sport regionale la nuova stagione del Pescara i biancazzurri stringono per Gans a breve vertice con la Juve campionato al Via il 25 agosto l'ultima giornata il 18 maggio e poi più di mezza serie B e senza allenatore il Delfino però è tra le sette squadre che hanno già scelto il tecnico tra le panchine più ambite c'è quella del Frosinone che oggi potrebbe chiudere con l'ex biancazzurro Oddo Bucchi lascerà il Perugia su di lui ci sono il Bari e soprattutto il Sassuolo in Umbra dovrebbe finire Vivarini e poi dei vincenti sta Francavilla e l'ipotesi Lanciano il presidente insegue la serie D con i giallorossi ma potrebbe avere un futuro nel club rosso-nero andiamo a vedere la Lega Pro futuro da scrivere Teramo e San Nicolò non c'è l'intesa ognuno per conto suo nota congiunta dei club cade l'ipotesi di accordo in settimana Campitelli parlerà di programmi andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport del messaggero il Pescara sulle star under 20 il difensore biancazzurro Davide Vitturini peccato non essere in Corea con i miei compagni io sarò pronto per il ritiro con Zeman in nazionale tanti amici sarebbe bellissimo giocare all'Adriatico con i ragazzi forti come Pessina Vido e gli altri in chiusura intanto la trattativa per l'attaccante Simone Gans ritroviamo la notizia che riguarda il Francavilla è cresciuto di gara in gara dice Montani i giocatori in diffida hanno evitato munizioni domenica si può fare la storia con Cerreto Desi per la finalissima e poi la Lega Pro colpo di scena Giorgio Repetto di S sfumata la nomination di Federico che sembrava cosa ormai fatta Campitelli vuol continuare l'asse di ferro con il Pescara la rosa dei mister andiamo a vedere anche l'apertura della città sullo sport che riguarda ovviamente il Teramo e allora recuperiamo la pagina clamoroso Teramo Repetto sorpassa Federico quando sembrava già tutto fatto spunta l'ex direttore generale del Pescara come DS l'accordo è a un passo accelerata nel weekend con la trattativa per Federico ancora in stand by arriva la prima sorpresa della nuova stagione continuiamo con lo sport torniamo sul sul messaggero adesso andiamo a vedere altre notizie dalla Serie D cessione l'Aquila slitta domani il vertice cruciale anche la conferma di mister Battistini dipenderà dall'esito ancora il Pescara calcio 5 che è stangata dal giudice sportivo costano caro i disordini dopo la gara con la luparenze burruto e campo squalificati fino a dicembre out caputo e colini andiamo a vedere il titolo sul calcio 5 anche del quotidiano il centro calcio 5 playoff sentenza dopo la rissa in gara 1 il giudice assenso unico che è stangata sul Pescara squalifica ammenda i biancazzurri solo sei mesi a tobo della luparenze vediamo insieme il servizio di Andrea Costantini sul Pescara calcio a 5 cala la mannaia del giudice sportivo nel tardo pomeriggio il comunicato circa i provvedimenti disciplinari seguenti gara 1 della finale scudetto ha una portata pesantissima sul team biancazzurro ammenda la società per 5.000 euro e squalifica del campo fino al 31 dicembre 2017 inibizione di oltre un anno fino al 30 giugno 2018 per il vicepresidente Matteo Iannascoli ed il dirigente Fabio Moggia per il presidente Danilo Iannascoli inibizione fino al 31 ottobre 2017 perché si legge nel referto al termine dell'incontro teneva una condotta finalizzata a fomentare il pubblico presente accedeva indebitamente negli spogliatori dell'arbitro con condotta riguardosa e ingiuriava il presidente della squadra avversaria inibiti anche i dirigenti Francesco Chiavaroli fino al 31 dicembre 2017 e Marco Troilo fino al prossimo 31 luglio pesantissimi provvedimenti anche per due giocatori biancazzurri squalifica fino al 31 dicembre 2017 per Cristian Borruto per aver colpito il giocatore della luparense Tobe e per frasi offensive all'arbitro Riccardo Caputo fermato fino al 31 novembre 2017 per aver inseguito e colpito Tobe dopo aver ricevuto un pugno dello stesso giocatore della luparense infine due giornate all'allenatore Fulvio Colini e una al giocatore Giovanni Pulvirenti per la luparense ci sono 1500 euro di ammenda squalifica a Tobe fino al 30 novembre 2017 il pugno dello spagnolo a Caputo lo ricordiamo aveva scatenato la rissa finale due giornate anche all'allenatore dei Veneti Davide Marin Verdetti che se possibile inaspriscono ancora di più il clima di una finale scudetto la cui prosecuzione è già di per sé in bilico dopo la decisione del patron Danilo Iannascoli di sospendere le attività e disertare gara 2 decisione per la quale è difficile ipotizzare allo stato un dietro front dopo la portata di un comunicato che di fatto decapita società e squadra e noi chiudiamo qui la rassegna stampa di Mattino 6 io vi ringrazio per averci seguito l'appuntamento con Mattino 6 e per domani mattina alle ore 8 la nostra informazione invece torna con il TG6 oggi alle 14 alle 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi buona giornata grazie per la visione